ragazzi siamo tornati siamo qui con il video che vi avevo promesso ieri ricorderete ieri è uscito il video in cui vi racconto che cosa è cambiato lato dirigenza e lato squadra quindi giocatori e lato fortuna anche quindi prima di vedere questo video in cui parlo di massimiliano allegri dovete per forza di cose andarvi a rivedere quell'altro ve lo lascio qui sopra nelle schede mi raccomando perché sono due discorsi che si intrecciano ho deciso di fare due video separati perché sono degli argomenti scottanti e finalmente oggi avrete risposta alla domanda su anzi alla domanda delle domande e cioè cosa ne penso oggi di massimiliano allegri merita l'esonero merita la conferma sono ancora dalla parte dell'allegri out sono tornato da parte allegri in quindi cerchiamo di risolvere di rispondere a questa domanda vi chiedo un mi piace un commento è un download gratuito di numero 10 trovate il link qui sotto in descrizione come sempre app per la quale sto lavorando e collaborando sto diventando giornalista sportivo scrivendo appunto articoli su numero 10 non potete assolutamente perderveli perché sicuramente questi discorsi queste tematiche le riporterò anche all'interno di un articolo che scriverò proprio in questi giorni non lasciatevi scappare assolutamente la possibilità di leggere questi articoli in esclusiva e partiamo subito ricordatevi che dopo la sigla dopo la breve clip ci saranno degli spoiler e quindi l'altro video non sarà più utilizzabile godibile come in questo momento se ancora non avete visto pausa e poi ritornate qui tra l'altro ieri prima della registrazione di questo video è stato annunciato allegri come allenatore del mese del campionato di serie a questo discorso era stato fatto in precedenza ma questa cosa ovviamente non sposta di una virgola il mio giudizio e però ci sta fare i complimenti a massimiliano allegri per questo premio che secondo me anche tutto sommato è abbastanza meritato continuiamo il video allora intanto parto da un presupposto e cioè che mi sono ritrovato alcuni commenti stucchevoli passatemi il termine veniva scritto che ora rosicavo nel vederla juventus vincere perché volevo la testa di massimiliano allegri allora non userò tanti giri di parole per commentare questi commenti idioti e scemi perché se davvero pensate questa cosa su di me uno non avete capito niente di chi sono due probabilmente non avete mai visto ascoltato capito il video perché non arriverò mai e poi mai a fare contro la juventus per far valere una mia idea anche perché le mie idee vengano basate sui fatti su quello che dice il campo quindi ragazzi cadete malissimo cioè sono delle puttanate allucinanti e questa cosa la voglio mettere in evidenza prima di iniziare il video prima di parlare del video e voglio inoltre dirvi che è una cosa diversa da quello che sarà il mio parere sulla conferma l'esonore massimiliano allegri però vi voglio dire che secondo me oggi non avrebbe minimamente senso un esonore massimiliano allegri dalla parte della dirigenza quindi ragionando con la testa della dirigenza perché vi spiego dopo monza e con due settimane di pausa nazionale non me lo esoneri non me lo esoneri me lo esoneri adesso dopo un filotto di sei partite quindi proprio dal punto di vista logico dirigenziale troverei ridicolo un esonero di massimiliano allegri oggi troverei ridicolo un esonero massimiliano allegri oggi perché non avrebbe veramente senso dal punto di vista logico e all'interno di una timeline proprio sarebbe una follia sarebbe un doppio errore probabilmente la dirigenza significa che non ci stanno capendo niente probabilmente se me lo confermano dopo monza e me lo esonerano adesso non avrebbe minimamente senso dal punto di vista logico sotto il punto di vista di ragionamento della dirigenza invece ora dobbiamo ragionare su quelle che sono state le mosse che ha cambiato allegri e di conseguenza poi sarà la mia valutazione sull'operato di massimiliano allegri che cosa ha cambiato allegri in queste ultime sei partite tanto il cambio dalla difesa 3 alla difesa 4 con conseguente modifiche della fase di non possesso dove prima eravamo troppo passivi e attendeisti traduco non c'è più 4 4 2 storto in fase di possesso e non possesso che era diventato anche questo stucchevole era capricciante vergognoso scegliete voi scegliete voi come descriverlo ma veramente non ce la facevo più perché si vedeva che era una disposizione che non dava niente alla squadra era un credo tattico da inseguire che puzzava anche abbastanza di naftalina e non si discostava completamente da quello che da quelle che le caratteristiche di questa squadra banalmente semplicemente bremer al centro della difesa con danilo e sandro braccetti e non più terzini dato che non riuscivano a spingere come i terzini moderni o quello che si chiede oggi ad un terzino e su queste due ok cause concatenate perché bremer al centro della difesa e quindi il passaggio alla difesa 3 e qui devo fare un plauso incredibile a davom perché davom qua ha spinto sulla difesa 3 ormai da mesi e tutte le volte che ne discutavamo insieme io ero sordo e non volevo sentirla come risposta invece alla fine ha avuto ragione lui io sono ancora dubbioso sulla difesa 3 ma per un motivo solo e cioè questa squadra non è stata costruita per giocare con la difesa 3 è stata costruita per giocare con un 4-3-3 e quindi si fa un po fatica ad avere delle soluzioni di intercambio sugli esterni quindi quadrada e kostic mentre davanti c'è abbondanza per solo le due posizioni viene in mente vlaovic milic ken chiesa di maria insomma capite bene che lì davanti sulle ci sono tanti giocatori nei due e in rosa ci sono pochi giocatori nei quinti questa cosa non ha molto senso e vi dicevo attenzione al ruolo di chiesa perché se verrà davvero visto come quinto allora si potrà svoltare un attimo la stagione e infatti sono stato felicissimo di vederlo entrare all'interno di juventus lazio proprio in quella posizione servirà addirittura l'assist per il 3-0 chiesa stessa detto io in quel ruolo quinto di centrocampo ho giocato il miglior calcio della mia vita e se allegri riuscirà veramente a fare un passo avanti definitivo verso il chiesa come quinto lo allontani sì dalla porta e quindi perde qualcosa ma sono anche dell'idea che dato che la squadra ha trovato un suo equilibrio e chiesa sicuramente potrà riuscire a dare qualcosa in più all'interno di una squadra già consolidata e lasciandogli un po meno compiti difensivi si potrà riuscire a trovare un incastro però poi di questo parleremo un po più avanti queste sono comunque una che in realtà sono due ragioni concatenate quindi la difesa 3-3-5-2 e bremer al centro della difesa e un'altra ragione concatenata quindi è la conseguente bocciatura di bonucci di questo avevo già parlato post eventus lazio qualcuno non l'aveva presa bene dicendo smettila di dissare bonucci ma ragazzi non è un dissing è un dato di fatto è un dato di fatto è un ragionamento che probabilmente ha fatto allegri fatto lo staff ha fatto lo stesso bonucci cercando di fare un passo indietro visto che il suo ruolo era proprio quello di centrale la difesa 3 e delle sei partite che abbiamo giocato nel filotto bonucci è stato titolare soltanto contro empoli ed ellas tra l'altro la prima con l'empoli per via dell'infortunio a bremer e con ellas invece è stata l'unica partita che ha giocato titolare con bene o male tutti i giocatori a disposizione quindi con la scelta dell'allenatore infatti bonucci poi era entrato gli ultimi cinque minuti con lecce era entrato gli ultimi 35 minuti col toro proprio per via dell'infortunio a bremer però nelle gerarchie bonucci ha fatto un evidente passo indietro è questa parte d'allegri è l'allenatore questo è l'allenatore e quindi una da una modifica tattica e cioè dalla difesa 4 alla difesa 3 la bocciatura di bonucci la promozione di bremer e lo dicevo ieri bremer è il giocatore chiave il trucco io l'ho chiamato trucco per poter giocare delle partite differenti quindi questa sicuramente è tutto frutto di allegri tutta farina del sacco di allegri e gli va riconosciuta continuità nelle scelte e non formazioni sempre differenti e adattate agli avversari questo diventa conseguente identità io dico semi acquisita perché non voglio festeggiamenti non voglio gioia siamo lontani molto lontani ancora loading stiamo caricando però c'è una semi identità acquisita in questo momento e passa dalla scelta di un modulo dalle scelte forti di gerarchie di determinati giocatori che prima erano chiave e ora hanno fatto un passo indietro e questo favorisce la crescita della squadra e il trovare una quadra che si traduce in un'identità semi acquisita vedete si parte da una scelta e a scalare effetto domino si arriva tante cose promozione di fagioli a centrocampo al posto di meccenni collocatelli rabbio che si sono confermati su alti livelli insieme al 44 che probabilmente riusciva a chiudere questo triangolo questo trittico che per caratteristiche si trova molto bene e qui io voglio aprire una discussione perché se fino adesso vi ho parlato di pregi da parte di allegri qua non posso fare altro che dire fortuna ma lo stesso allegri ha confermato questa cosa vi parlavo di fortuna nell'ultimo video e con fortuna intendo sfortuna perché comunque l'infortunio di un giocatore è sempre un qualcosa di prettamente negativo ma in questo caso la possibilità di far respirare fagioli inserire fagioli nei titolari e da quel gol a lecce non è più uscito si parla di fortuna e non di bravura perché quando c'era la necessità di far la scelta fagioli o meccenni tante volte allegri sceglieva meccenni perché perché in caso di non possesso palla allora meccenni si allargava si formava 4 4 2 storto si trovava all'inizio al discorso che quel modulo non stava funzionando e quindi è un insieme di cose che poi hanno portato a queste case qui perché poi da lecce c'è stata psg inter la sverona e lazio in cui il centrocampo è stato praticamente sempre quello praticamente sempre quello è il centrocampo praticamente sempre andato bene c'era un motivo direi proprio di se si è trovata la quadra si è data continuità si è scelto si è optato per dei giocatori che in quel momento davano qualcosa in più e ieri parlavamo di voglia grinta sacrificio e sicuramente un giocatore come fagioli un giocatore come miretti un giocatore come healing un giocatore come gatti che la carriera ancora non hanno fatta e vogliono scrivere pagine più fame di giocatori che magari pensavano al mondiale o di giocatori che in quel momento giocavano per nomea e questo era un grande difetto da parte di massimiliano allegri una grave colpa da parte di massimiliano allegri vedete come si intrecciano queste cose non è un valore assoluto e quindi è così no sono tante sfumature tanti intrecci e tante cose positive negative che poi vanno a formare la formazione iniziale a livello comunicativo questa credo che sia la cosa più importante allegri non ha più fatto uscite da latte alle ginocchia ricorderete che ci sono state tante conferenze stampa pre partita in cui mi arrabbiavo con allegri perché continuavano esserci delle uscite delle sparate contro la squadra e questo si collega col tweet di ieri con la frase di ieri allora la squadra ha giocato contro e forse sì a questo punto perché allegri dava proprio l'impressione di puntare il dito contro determinati giocatori di puntare il dito contro i giocatori di lavarsene le mani io non ho colpe tutta colpa loro non lo so come si dice la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dichiarazione che ha rilasciato a sconcerti al corriere prima del monza che si è tradotto in sconfitta col monza dove veramente si parlava di gerarchia si parlava di giocatori che mancavano e allora senza quelli non si può fare niente e no quello è stato un grande errore e per fortuna allegri queste uscite non sta più facendo anzi lo sto vedendo molto concentrato tipo l'ultima con l'alassio nel pre nel post partita l'ho visto abbastanza teso ma quella tensione buona non quella strafottenza che gli ho visto invece in una determinata parte di stagione dove veramente sembrava che lui fosse sempre nel giusto gli altri sempre nel torto e che questa situazione non fosse assolutamente merito barra colpa sua no questa roba non mi è piaciuta e per fortuna adesso si sta facendo un passo avanti anche da livello comunicativo che nel calcio è tanta roba voglio concludere dicendo danilo capitano perché la scelta di danilo capitano al posto di quadrado è importante è importante per leadership per merito e credo che danilo sia veramente un giocatore importantissimo per questa juve sia dentro il campo sia fuori dal campo quindi leader tecnico e carismatico e questo passa da allegri ed è una cosa che va riconosciuta da allegri quindi queste sono le cose che ha cambiato allegri cosa significa però attenzione perché nel momento in cui vai a riconoscere i meriti e vai a riconoscere le cose positive significa che in precedenza c'erano delle cose negative e se ricordate il video di ieri quindi l'elenco delle cose della squadra dirigenza erano due cose per la dirigenza 3 4 cose per la squadra per allegri ci sono già 6 7 punti cosa significa che allegri per quanto mi riguarda era il maggior responsabile di quella situazione lì perché dal punto di vista del campo non era in grado di dare alla squadra l'identità di dare alla squadra la compattezza di dare alla squadra le gerarchie di dare alla squadra qualsiasi tipo di cosa che deve dare l'allenatore era assente era un tesserato era un uomo che vagava per la continassa che vagava per la panchina e che faceva il minimo indispensabile per cercare di raggiungere il massimo e questo non funzionava con la squadra che si fa a disposizione e invece allegri sta iniziando a capire che tipo di giocatore a disposizione che costi ci deve giocare nella difesa 3 che è un giocatore che che prende consapevolezza nella difesa 3 che può partire in contropiede che magari con meno possesso palla meno possesso palla orizzontale sterile ma più ripartenza in verticale questa squadra dà qualcosa in più che servano dei palleggiatori in più a centrocampo come nicolò fagioli che i giovani possono far parte di questo progetto tutte cose che prima non c'erano e quindi non è che quelle critiche che si erano fatte da allegri in precedenza erano sogni di un ignorante di un matto ragazzi la squadra non andava e sì c'era una responsabilità da parte dei giocatori l'abbiamo elencata ieri ma queste sono responsabilità dell'allenatore e sono cose che ha cambiato l'allenatore sono cose che ha modificato l'allenatore ma se ci sono così tanti punti positivi di cose cambiate da allegri è perché prima ce ne erano altrettanti negativi non si scappa è logica ragionamento banalissimo quindi oggi sicuramente allegri ha ritrovato quello smalto che aveva perso all'inizio della stagione e secondo me anche nella stagione precedente perché allegri la stagione precedente ragazzi era ricaduto in tanti errori che gli ho visto fare anche in questa prima parte di stagione ma il messaggio che voglio passarvi io prima di dirvi secondo me se allegri dovrebbe rimanere andarsene bla 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 è che non abbiamo ancora fatto niente cioè intendiamoci anzi a me fa ancora più incassare in realtà leggere questo filotto perché significa che i giocatori erano quelli l'allenatore era quello e si poteva far meglio e si doveva far meglio e che si è fatto male per qualche ragione non so se per voglia non so se per questa è una domanda qui non posso rispondere non ero dentro non so che cosa succedeva non so sono cose sacre lo spogliatoio spero anche che non escano però in precedenza si era fatto male precedenza c'era qualcosa che non andava e queste cose sono negative molto negative estremamente negative e quindi ben venga che adesso siano cambiate ma che nervoso perché adesso potremmo giocarci ben altro campionato ben altra classifica e aggiungo una cosa che fino adesso non ho ancora detto ma che non può passare in osservata forse potremmo giocarci la champions dico forse perché poi il campo calcio te lo devi meritare di sudare ma abbiamo fatto una champions vergognosa disastrosa perché adesso abbiamo parlato della serie a abbiamo analizzato abbiamo cambiato abbiamo guardato ma non può passare in osservato il fatto che la juventus abbia fatto una champions da tre punti in sei partite arrivando in europa league soltanto perché il maccabi ne ha presi di più di te perdendo in casa il maccabi che non vinceva in partita in champions dal 2002 che ha fatto tre punti ovviamente solo contro di te fatto punti solo contro di te come tu li hai fatti solo contro di loro queste sono cose che non possano passare in osservate in secondo piano non possano cadere nel dimenticatoio tu hai finito la champions ottobre e ora ti vai a giocare l'europa league e la champions per la juve è una cosa molto importante sia dal punto di vista del prestigio sia dal punto di vista economico questo non può passare in osservato quindi sì è vero abbiamo raddrizzato la serie a sì è vero è cambiato qualcosa in serie a sì è vero allegri forse ha trovato la quadra in questo momento ma dei danni ce ne sono stati e ignorarli ragazzi non ci rende migliori non ci rende tifosi più juventini se nel momento in cui si andava male si usciva dalla champions per arrivare dal monza si diceva è no però forza allegri fino alla fine ragazzi non sappiamo come finirà questo campionato non sappiamo se questo filotto positivo continuerà non sappiamo se è stato un fuoco di paglia non sappiamo dal punto di vista fisico come torneremo dal punto di vista mentale come torneremo quindi è inutile adesso dire avevo ragione io all'epoca avevo ragione io perché io ho vissuto in tutte e due le fasi gente che all'inizio anno mi diceva vedi coglione che avresti confermato allegri in panchina avevo ragione io che non va bene adesso si va male e adesso gente che mi dice a coglione visto che volevi generare allegri invece adesso si va bene perché non si riesce a trovare questa fase di equilibrio nel tifo perché non siamo più abituati a parlare alla fine e qualcuno quindi potrà dire allora potevi trarre la tua conclusione su allegri alla fine sì è vero però io il mio allegri out nasceva da una chiave e la ricorderete quella chiave perché l'ho detta più di un'occasione in più di un'occasione e cioè io in questo momento cambierà allenatore perché vedo che la squadra non lo segue più e ho paura che non si riesca più ricucire questo strappo questo strappo probabilmente si è ricucito perché la squadra ha ritrovato compattezza e probabilmente fiducia e allora vi rispondo alla domanda di ieri che vi facevo probabilmente la squadra ha giocato contro loro la risposta che mi do è sì la risposta è sì la squadra ha giocato contro l'allenatore perché non voleva più l'allenatore questa è la risposta che mi do perché non ci può essere nessun'altra risposta per tutto quello che è stato il ragionamento di questi due video il ragionamento che ho fatto nei mesi quindi sì probabilmente la squadra ha giocato contro l'allenatore e secondo me è un comportamento veramente privo di onore se sei la juventus già se sei qualsiasi squadra se sei la juventus ha maggior ragione credo proprio di sì e vi dicevo prima non avrebbe minimamente senso che la dirigenza vada a desonerare oggi l'allenatore perché se non l'ha fatto l'altra volta che senso ha farlo oggi però io vi dico anche che ragazzi l'uscita dalla champions non può passare inosservata vi dico anche che la classifica di oggi non è una classifica da juventus l'è diventata esaltante perché eravamo ottavi vi dico di aspettare ancora perché io non sono pienamente soddisfatto delle prestazioni e lo sapete quando vi dico le partite con l'ellas le partite con lecce rimangono partite sporche partite che potevano essere da tripla partite che potevamo non vincere non sono partite che è completamente aggiustato dal punto di vista della prestazione di come stai scendendo in campo quindi è vero ci sono cose che sono cambiate a livello gerarchico cose che sono cambiate a livello tattico cose che sono cambiate a livello di modulistica certo sono cambiate ma attenzione 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 perché non abbiamo vinto niente la stagione non è finita e io prima di dare il mio giudizio definitivo sul torno ben fiducioso nei confronti di allegri perché parlare di carri secondo me è una puttanata io parlo di fiducia io non ho ancora al 100 per cento la fiducia di massimiliano allegri ve lo dico proprio tranquillamente fuori dai denti probabilmente da parte dirigenziale sarebbe una follia esonerarlo oggi perché non avrebbe senso proprio dal punto di vista logico ma io la fiducia piena nei confronti allegri ancora non l'ho ritrovata perché non so ancora dove potremo arrivare intanto in questa stagione perché se arriviamo terzi quarti in campionato e non vinciamo ancora niente non è una stagione positiva è ve lo dico io voglio vincere l'europa league voglio vincere la coppa italia voglio mettere i bastoni tra le ruote al napoli la stagione non è finita non è finita è finita stagione in champions ma il resto non è finita e prima di dire che sono fiducioso perché è qui e là io voglio vedere dei risultati più concreti rispetto a sei vittorie di file in campionato che sono clamorose perché non hai preso gol sono clamorose perché eri praticamente morto a livello di squadra ma io io voglio essere umile voglio essere umili io non posso dirvi oggi che sono ancora fiducioso nei confronti allegri perché nel momento in cui perdo la fiducia perdo la fiducia e per riconquistare la fiducia serve una sberla ma dall'altra parte dato che ho iniziato il video vi dicevo ragazzi c'è gente che mi ha detto che ti favo contro io spero di riceverla questa sberla la parte di massimiliano allegri in faccia io spero che massimiliano allegri vinca il campionato io spero che massimiliano allegri vinca l'europa league spero che massimiliano allegri vinca la coppa italia spero che mi faccia al tripletino e che a fine anno mi tiri fuori voi sapete cosa per farmi l'elicottero in faccia spero che in conferenza stampa vada dire toselli luca mi hai rotto il cazzo tutto sto tempo e guarda che cosa ho fatto perché godrei da matti godrei da matti nel vincere nel tornare a vincere godrei da matti nel dirvi mi sono sbagliato ho sbagliato la valutazione massimiliano allegri ci stava capendo qualcosa era tutto un piano suo premeditato per arrivare a stupirci io spero che finisca così la stagione me lo auguro però attenzione a fare i balletti perché quelli che non volevano allegri infatti i balletti quando li aveva andava male quelli che volevano allegri fanno i balletti adesso perché la io avevo bene attenzione a non farvi trascinare da questo flusso di partite attenzione perché le prime nove partite sono state una cosa e le ultime sei un'altra con la champions che è stata un disastro attenzione a farvi trascinare in questo flusso perché si sta perdendo un po di vista il fatto che alla fine la juventus è cosa importante non la nostra opinione e come io sono qua a dirvi che spero che mi dicano ti sei sbagliato coglione c'è tanta gente invece che ancora davvero realmente tiffa per le proprie idee perché la juventus è sarà e rimane sempre la cosa più importante e quindi fino alla fine forza juventus